Guarda di Eiji, capitolo 10 Il fulmine di Yoshihira e l'esilio di Yoritomo Da giorno in cui Namba Nonsaburo Tsunefusa aveva giustiziato Minamoto Yoshira, detto Gendel malvagio, egli non si era più sentito bene. Qualcuno gli suggerì di recarsi presso la cascata di Minoho nella provincia di Sezu, che si diceva potesse curare gli stati di malessere. Egli si ricordò là immediatamente e di fronte al bacino della cascata, quando chiese ai monaci del luogo quanto era profondo, quelli gli risposero che si diceva che fosse profondo una lega. Tsunefusa si rimarse dunque in quelle acche e notando sempre più in profondità raggiunse un luogo dove non vi era più acqua e si ritrovò davanti ad un magnifico castello. Stupito, chiamò a gran voce e gli venne risposto che era giunto al palazzo del re drago, ma che doveva tornare subito nel mondo degli uomini. E come prova del suo viaggio gli venne consegnata una piccola torre di cristallo che conteneva una reliquia del Buddha. Tsunefusa dunque tornò in superficie, raccontò ciò che aveva visto ai monaci e decise di tornare verso la città e consegnò la reliquia al tempio Kokuju-ji nelle montagne dell'Ovest. Sulla via del ritorno, giungendo nella piana di Koya, improvvisamente il cielo si oscurò. E russo un uomo in tuono. Per qualche motivo egli estresse la spada e continuò a cavalcare tenendo la sguenata, mentre i suoi accompagnatori cercavano un rifugio sotto gli alberi di pino. E lì, Tsunefusa, venne colpito da un fulmine che lo uccise. Sembra che nello stesso frangente di tempo un fulmine colpisse anche il terreno a Roku-ara, uccidendo mol diverse persone, e Tairaki Mori, scosso dall'evento, diede ordine ai monaci dei tempi di recitare Dai-Anya, cioè il Sutra della Grande Saggezza, al fine di placare lo spirito di Minamoto Yoshira. Le cascate dove si è recato Namba no Tsunefusa sono le cascate Nonubiki, in giapponese Nonubiki no Taki, un gruppo di quattro cascate, Laontaki, Mentaki, Tsutsumi Gadaki e Meodotaki, che si trovano vicino all'odierna città di Kobe. Assieme alle cascate Kegon e alle cascate Naci, formano le cosiddette tre cascate divine. Vengono ricordate anche nello Ise Monogatari, i racconti di Ise, attribuito a Dariwara Narira, 825-880, considerato grande poeta e grande seduttore, e divennero un motivo classico in poesia e nell'arte. Venne deciso che il tredicenne Minamoto Yoritomo, figlio di Yoshitomo, venisse esiliato sull'isola di Irugajima, nella provincia di Izu. Quando lo venne a sapere, la dama dello stagno incaricò Teira Monechiyo di portarlo da lei. Una volta quello ebbe di fronte, constatò con i propri occhi che Yoritomo era davvero il ritratto del suo defunto figlio, Teira Iemori, e molto si dolse che il ragazzo non potesse rimanere chioto, così da poterlo vedere spesso e poter alleviare il dolore della sua perdita. Ad ogni modo, la dama dello stagno assicurò a Yoritomo che gli avrebbe spedito dei nuovi vestiti ogni primavera ed ogni autunno, chiedendogli di considerarla come una madre e di pregare per la sua anima dopo la sua morte. Lo avvisò inoltre di non lasciarsi andare ai compartimenti indecorosi nella salvaggia provincia di Izu, così da non attirare le critiche sul suo lignaggio. Non so quanto questa sia una velata critica al fatto che poi si imparitò agli Ojo, considerati allora degli zotici. Yoritomo le assicurò che avrebbe mantenuto un comportamento consono e che avrebbe preso i voti religiosi per pregare per le anime del padre Yoshitomo e dei fratelli defunti. Come detto in precedenza, la dama dello stagno potrebbe essere Ike Nozenni, moglie ufficiale di Kiyomori, oppure la cosiddetta dama Gion. Si trattava di Ladi Gion o Gion no Niogo, nata nel 1085, data di morte sconosciuta, la consorte preferita dell'imperatore Shirakawa, 1053-1129, regno dal 1073 al 1087. Non è ben chiaro che fosse in realtà. Le ipotesi affermano che potrebbe essere la moglie di Minamoto Nakamune o di suo figlio Korekyo e che fosse una Niobo, cioè una dama di corte. Quindi non aveva il diritto tecnico di definirsi Niogo, ovvero consorte imperiale. Eppure veniva lo stesso chiamata Gion Niogo, riferendosi al luogo dove abitava. Nel 1105, si dice, avesse fatto costruire al sud-est del santuario Gion Sha una sala dove aveva fatto portare uno stato del Buddha Amida, alta circa 5 metri, e adorna di gioielli, oro e argento, stando a quanto racconta Fujiwara Munetada, 1062-1141, nel suo Chuyuki, il diario del ministro della destra. Teira Masamori, nonno di Kiyomori, fu fin dalla giovinezza un suo servitore. Divenne la madre adottiva di Fujiwara Nososhi, futura imperatrice Kentaimon-in, nonché madre biologica dell'imperatore Sutoku, 1119-1164, e Go Shirakawa, 1127-1192. Sembra che il Lady Gion avesse adottato Kiyomori, 1118-1181, che era figlio di una sua sorella più giovane e che lo abbia aiutato fin dall'inizio della sua carriera politica. Qualcuno afferma anche che in realtà Kiyomori fosse proprio figlio dei Lady Gion e di Shirakawa, ma nel 1118, anno della sua nascita, la donna avrebbe avuto circa 40 anni e Shirakawa ne aveva oltre 65. Altre fonti affermano che a intercedere sia stata invece la madre biologica di Emori e Iori Mori, i Kenozenni. I Kenozenni, 1104-1164, in cui il vero nome era Muneko, era la moglie ufficiale di Teira Tadamori, ma non la madre di Kiyomori, 1118-1181, nato dalla relazione con un'altra donna, del cui non è nota l'identità, forse la sorella minore di Gion no Neobo, ed era la figlia di Minamoto Munekane e della figlia di Fujiwara Harinobu. I suoi figli naturali erano Iemori, 1120-1149, e Iori Mori, 1132-1186, e il suo cugino Fujiwara Harinobu era il favorito dell'imperatore Toba e lei stessa fu la baglia del principe Shigeto, figlio dell'imperatore Sutoku. Quando suo marito morì nel 1153 si fece monaca e veniva chiamata Ike nozenni perché viveva a Ikedono, ovvero la sala dello stagno a Rokuara. Sembra che, sebbene fosse legata al principe Shigemori e all'ex imperatore Sutoku, nel 1156, quando scoppiò la guerra di Ogen, abbia consigliato al figlio Yori Mori di stare dalla parte di Goshirakawa, seguendo il fratello Kiyomori. Viene ricordato che fu lei a intercedere per la vita di Yoritomo nel marzo 1160, perché il giovine somigliava al suo defunto figlio Iemori, morto dieci anni prima. Quando Yoritomo salì al potere, membro del suo debito, non anentò la famiglia di Teira Yorimori. Il quindicesimo giorno del terzo mese, dunque, Yoritomo lasciò Kyoto e, fermatosi ad Aguataguchi, si abbandonò al rimpianto. Aguataguchi si trova circa un chilometro a sud-est nel palazzo imperiale di Kyoto, poco dopo aver attraversato il fiume Kamo e, anticamente, era una delle sette uscite da Kyoto, ma al giorno d'oggi non ha nessun punto di interesse. I monaci del monte Iei si accalcarono sulle rive del fiume Otsu per vederlo e dissero che era come lasciare libero un cucciolo di tigre. Teira Monekio lo aveva accompagnato fino là e, superato il ponte di Seta, pur con fatica, permise a Yoritomo di fermarsi a pregare al tempio di Takebe, dove si venera a Cima, nome tutelare del clan Minamoto. Così la compagnia si fermò per la notte al tempio di Takebe e, durante le ore del sonno, un servitore del clan Minamoto, Kozuke no Genku Morigiasu, a cui era stato permesso di accompagnare Yoritomo per un breve tratto, si avvicinò a lui e gli chiese di non prendere i voti religiosi, perché aveva avuto un sogno premonitore, nel quale Dio a Cima assicurava a Yoritomo che avrebbe riconquistato il potere. Il giovane Yoritomo, temendo che qualcuno potesse udirli, nulla rispose, limitandosi ad un seno del capo. Il giorno seguente Morigiasu si congedò da Yoritomo, scusandosi con lui perché doveva tornare indietro per occuparsi della madre malata. Il santuario di Takebe Taisha si trova a Seta, subito a est del fiume, e le divinità che vi risiedono sono Yamato Takeru, l'eroico figlio dell'imperatore Keiko, e Oku Ninushi. Inizialmente sorgeva nel luogo dove si ricò a vivere la moglie di Yamato Takeru, dopo la sua morte, insieme al figlio Takebe Inai Butsumei, intorno al 113 d.C., ma venne spostato nell'attuale posizione dall'imperatrice Koke, 718-770, nell'anno 755. Ella è famosa per essere diventata imperatrice per ben due volte, prima con il nome di Koke, e poi con quello di Shotoku. Dopo aver riconquistato il potere, Yoritomo si ricorda di nuovo in questo tempio, per pregare e ringraziamento gli dei. Non trovo invece alcuna informazione su questo Morigiasu, che potrebbe essere una figura fittizia. Tahira Monekiyo scortò Yoritomo fino a Shinoara, e al momento del congedo, Yoritomo sembrò sinceramente dispiaciuto di vederlo tornare alla capitale. Quindi lo accompagnò per un'altra dozzina di chilometri, probabilmente fino al fiume Ino, più o meno all'altezza al quale il lago Biwo si allarga. Giunto a Hirugajima, Minamoto Yoritomo venne dunque affidato alla guardia degli Ito e degli Ojo, responsabili della provincia di Izu. Non è semplice stabilire dove si trovasse per certo la piccola isola di Hirugajima, forse sui banchi di sambia del fiume Kano, nella zona della piana di Tagata, o sulle basse colline di Tajima poco distanti, tra le risaie, e che prese tale nome solo in seguito alla permanenza in loco di Yoritomo dal 1160 al 1180. Sembra che comunque fosse concessa a Yoritomo una certa libertà, tanto che poteva visitare il monte Akone, il monte Izuyama e i templi di Mishima. Inoltre era in ottimi rapporti con il clan Ito e il clan Ojo, che avrebbero dovuto farli da guardie, tanto che ebbe una relazione sentimentale con Yaeima, figlia di Ito Sukichika, ed in seguito sposò Ojo Masako, figlia di Ojo Tokimasa. Qualcuno sostiene che i due fecero addirittura una vera e propria fuga d'amore. In memoria di tale esilio, nel 2004 è stata posta a Yokamachi, città di Izu no Kuni, prefettura di Shizuoka, una statua di bronzo che rappresenta proprio Minamoto Yoritomo e la moglie Masako, che guardano in direzione del monte Fuji. La provincia di Izu è l'attuale zona est della provincia di Shizuoka, in pratica è la grossa penisola a sud ovest di Tokyo. Ito Sukichika, morto nel 1182, era il secondo figlio di Ito Sukieie, figlio a sua volta di Kudo Suketaka, capostipite del clan Kudo, e sarà sia il sesto capofamiglia del Kudo che il capostipite del clan Kawazu. Si scontrerà con quello che era sia suo nipote, che suo cugino, che sia suo genero, Ito Sukichika, a cui aveva dato in sposa la figlia Mango Gozen, per le terre del clan, e approfitterà del fatto che Suketsune si trovava a Kyoto per impadronersi del castello degli Ito. Suketsune decise dunque di inviare un gruppo di assassini per ucciderlo, e costoro li tesero un'imboscata nell'ottobre 1176, mentre egli era a caccia a Kuni, ma la freccia a lui destinata uccise invece suo figlio, Kawazu Sukeyasu. I due figli di Sukeyasu, meglio noti come i fratelli Soga, vendicheranno il loro padre anni dopo, uccidendo Kudo Suketsune nel famoso episodio. Sembra abbia anche cercato di uccidere Minamoto Ioritomo, che aveva avuto una relazione con la figlia. Difatti era stato incaricato della sua serviglianza da Itaera, ma sua figlia Yaime gli dè da lettura un figlio, chiamato Senzurumaro, che Suketsune stesso annegò nel fiume Matsukawa nel 1175. Ioritomo venne avvisato che Suketsune deve ucciderlo da Sukekio, secondo genito di Suketsune, che aveva sposato la terza figlia di Ikinoama, la sua baglia, e riuscì perciò a salvarsi, fuggendo notte e tempo, al santuario sotto Gongen ad Atami, e poi rifugiandosi nella casa di Onjo Tokimase. Nel 1180 sarà lui, assieme a Obakagechika, a mettere in rotta le forze di Ioritomo a Ishibashi Yama, ma verrà catturato dalle truppe dei Genji in seguito alla battaglia di Fujigawa, quella delle papere. Sempre nel 1180 è affidato alla custodia di Miura Yoshizumi, suo genero, che riuscì a fargli ottenere la grazia. Tuttavia Suketsune si suiciderà per la vergogna nel 1182. Nonostante sia visto come un malvagio, la sua figura viene celebrata come eroica ogni anno nella città di Ito, durante lo Ito Suketsune Mazzuri. Non è ben chiara la genese del clan Ojo e si mette in dubbio il loro reale legame con i Taira di cui si mandavano, dato che probabilmente per molti anni si erano sposati con altre famiglie rurali nella zona di Izu, dove agivano da amministratori per i nobili di Kyoto, e probabilmente non disponevano nemmeno della ricchezza né della forza militare di altre famiglie, ma in seguito all'ascesa e al potere della famiglia sulla scia di Ioritomo, il clan cercò di darsi una patina di nobiltà. Ojo Tokimasa, 1138-1215, fu il primo shikken reggente a nome dello shogun, dello shogunato Kamakura, e lo diventò nel 1203, a seguito della lotta per il potere iniziata dopo la morte di Minamoto Ioritomo nel 1199. Da notare che lì Ojo sono dei Taira, nel quale era suocero, e tra i tutori del figlio Yorii, che abdicò in favore del fratello Sadamoto, all'epoca di solo 11 anni. Il titolo passò poi ai suoi discendenti fino alla riconquista del potere, avviata dall'imperatore Godaigo, e al successivo shogunato di Ashikaga Takauji, nel 1336. Ojo Tokimasa, 1138-1215, è un bel villain, è stato il tutore del giovane Minamoto Ioritomo, e l'ha dato in sposa la figlia, Ojo Masako. Alla morte del genero, nel 1199, mise in moto un piano per eliminare le figure più importanti che affiancavano il figlio di Ioritomo, il nuovo shogun Yorii, che gravitava nella sfera di influenza di altre casate, eliminandogli fisicamente e arrivando a essere nominato Shike, ovvero reggente dello shogun, e nel 1204 destituì e fece uccidere Yorii e il di lui figlio, Ichiman, al fine di passare lo shogunato all'altro figlio di Ioritomo, Saneno Sanitomo. Non contento con la seconda moglie, Maki, che non era quindi la madre di Masako, cercò di fare leggere il marito della loro figlia in comune, quindi un altro genero, Hiraga Tomo Masa, al rango di shogun, al posto di Sanetomo nel 1205, ma venne fermato dall'opposizione dei suoi stessi figli, Ojo Yoshitoki e Masako, la vedova di Ioritomo, che lo costringessero a ritirarsi e a prendere i voti. L'episodio è noto come l'incidente di Maki.